molto male di essere io e io bello mamma che lo mettendo tanto e lo faccio un tinta questo questo video finisce qua allora metterlo su allora ragazzi io sto facendo io io oppicchiamo così sto con la magliette con le cose così ci vuole un tavolo setto rotto ciao 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 commentate ciao noi ci contiamo non mi scorda il mio canale va bene ciao